Buongiorno, bentrovati. Appuntamento di giovedì 20 ottobre con la nostra consueta rassegna stampa, mattino 6, che si apre come sempre con le prime pagine dei nostri quotidiani, giornali che troverete ovviamente oggi in Edicora. Partiamo dalle edizioni del centro, quotidiano d'Abruzzo, quattro edizioni che purtroppo riportano questa mattina un unico titolo principale che riguarda una tragedia accaduta nel tardo pomeriggio di ieri. In provincia di Pescara, Cepagatti, bimbo sbranato dal cane, tragedia Cepagatti, Ferdinando di 19 mesi, aggredito da uno degli animali del papà, è sfuggito per un attimo al controllo dei parenti. E' arrivato morto in ospedale, il nonno, vedete poi nella foto, indica il posto in cui il bambino, il nipote è stato azzannato. Poi la disperazione davanti all'ospedale del papà, l'ospedale di Chieti, dove c'è stata questa corsa disperata di familiari che hanno accompagnato con l'auto il piccolo, per abbreviare ancora di più i tempi, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. I sanitari del Policlinico di Chieti hanno cercato in ogni modo di rianimare il piccolo Ferdinando, che però era già morto. Vediamo anche gli altri titoli nell'edizione di Pescara del Centro, vedete in basso, due politici locali mi chiesero il 5%, tangenti ed appalti a bussi, l'imprenditore Roscini interrogato per tre ore ieri in tribunale a Pescara. Poi vedete di fianco scontro sulla sede, classico da Vinci, lite fra scuole a Pescara, e poi commercialisti al voto grossi, daremo spazio ai giovani. Lasciamo l'edizione di Pescara del Centro, andiamo a vedere quella di Chieti, ovviamente come vi dicevo l'apertura è per questa tragedia accaduta a Cepagatti, vediamo gli altri titoli, Cupello, narcotizzato e derubato in casa, e poi scuole e cantieri, adesso basta la denuncia di Febo, siamo a Chieti, consigliere comunale del Partito Democratico. Andiamo a vedere l'edizione di Teramo, sempre del quotidiano Il Centro, la ASL accusa perdite per 10 milioni, Teramo il bilancio 2016 dell'azienda affossato dai mancati trasferimenti da Stato e Regione. e poi il Duomo di Atri sta per riaprire, è arrivato l'ok dei tecnici proprio nelle ultime ore. E poi Cultura, partiti a Teramo, gli stati generali, con la partecipazione di 80 associazioni. e chiudiamo con l'edizione di L'Aquila e Avezzano, che è sempre del quotidiano Il Centro, si parla di voto, in questo caso nella Marsica, proprio ad Avezzano, comunali intesa raggiunta nel centro-destra. e poi invece a Sulmona, acqua minerale, al Medibev. E poi vedete il titolo che si trova a centro pagina, Senz'acqua e al freddo, 90 famiglie. L'Aquila, disagi nel progetto case di Sant'Antonio, critiche alla Guerrato. Andiamo ancora avanti, siamo alla prima pagina dell'inserto a Brusso del messaggero. Ovviamente il titolo di apertura riguarda la morte di questo bambino di un anno e mezzo, ieri pomeriggio, nel tardo pomeriggio di ieri a Cepagatti. Famiglia impegnata nel trasloco, Ferdinando Di Rocco, 20 mesi, si avvicina al molosso, legato ad un albero, almeno due morsi alla testa. Per il piccino non c'è stato nulla da fare, urla di disperazione dei genitori davanti all'ospedale di Chieti. E poi Chieti è ancora l'università condannata a pagare 8 milioni, mancata realizzazione del polo didattico. Il giudice ordina di risarcire i costruttori. E poi in alto l'Aquila non inirra girati via i controlli su 300 ospiti di Casa Serena. E poi a Pescara, Pescara Porto, lo stop arriva all'ultimo giorno. E andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano La Città, ovviamente l'apertura anche in questo caso per la tragedia di Cepagatti. Muore azzannato dal cane di papà, bimbo di un anno e mezzo, muore a causa delle ferite riportate dal morso di un pastore corso. Poi vedete in alto oggi, questa mattina, l'ultimo addio al Cavalier di Sante. Poi mazzette e ricostruzione, incontri in hotel a Tortoredo. E poi vedete a centro pagina, acquario ipogeo, prima giornata a Teramo per gli stati generali della cultura. In basso un richiamo per quanto riguarda lo sport, il calcio, il Teramo in particolare. Parla Mr. Nofri, il coraggio ci permetterà di tornare a vincere. Nella seconda parte andremo a vedere insieme proprio un'intervista delle dichiarazioni del tecnico Biancorosso. Possiamo lasciare dunque le prime pagine dei nostri quotidiani per andare a vedere le prime pagine invece dei giornali nazionali che troverete oggi in edicola. Partiamo dal quotidiano La Repubblica, braccio di ferro tra Unione Europea e Italia sulla manovra. E poi il paese è rimasto senza bambini in sei mesi, crollo record delle nascite e questa in Italia non è una novità. E poi vedete altri titoli, uno in particolare che riguarda Roma, l'inchiesta Raggi, l'ex social e quell'incarico d'oro per vendere il mega hotel dell'euro. Dunque si parla ancora delle vicende di Roma e del sindaco Virginia Raggi. Lasciamo La Repubblica, siamo al Corriere della Sera. Patto con Tripoli, gli aiuti italiani, motovedette, auto e squadre speciali per migranti e terrorismo. L'appoggio a Serrai. Dunque questo patto tra i due paesi che potrebbe essere davvero importante. E poi vedete a centropagina Bebe il selfie di una ragazza magica. Parliamo della visita della delegazione italiana guidata dal premier Renzi negli Stati Uniti, ospiti del premier Barack Obama. Andiamo ancora avanti, siamo al quotidiano. Il messaggero decreto migranti, costi record, accoglienza al collasso. Il governo stanzia altri 700 milioni in aggiunta al miliardo. Già speso, Renzi attacca l'Unione Europea, si congratula con noi ma chiude le porte. Procedura contro chi respinge. E poi si parla di pubblica amministrazione perché ci sono nuovi tetti per gli stipendi pubblici. Canone in bolletta, giù l'evasione. Poi anche sul messaggero il richiamo a quello che sta accadendo a Roma. Roma lo strappo sull'anticorruzione, accordo scaduto. Raggi, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, dice rimediamo. Andiamo ancora avanti, siamo al tempo, altro quotidiano della capitale. La rabbia della polizia per i bimbi senza casa. Commissariati, paralizzati per i minori che dormono negli uffici, parrocchi e centri chiusi. Il questore dice portateli lo stesso. E poi vedete a centro pagina, cambiamo argomento. Siamo arrivati su Marte, forse giallo, sulla sonda italiana nello spazio e sul pianeta rossa, ma non trasmette più. Siamo al quotidiano. La stampa di Torino Renzi lancia la sfida all'Europa dopo la festa di Obama. Il premier attacca su bilancio i migranti. Sanzioni per chi non li accoglie. E poi suspense per la missione europea su Marte. Abbiamo visto anche dal tempo. Vedete questa bella foto a centro pagina proprio del quotidiano. La stampa. E siamo all'avvenire. Il giornale della conferenza episcopale italiana. Mosul, chi può fugge? Parliamo dell'assalto alla città per liberarla dall'Isis. Centinaia cercano riparo in Siria prima dello scontro. E poi Boldrini, Caporalato, le tutele sono per tutti. Parla in questa intervista il presidente della Camera, Laura Boldrini. Proprio su questa piaga del Caporalato. Anche alla luce della nuova legge presentata dal governo nei giorni scorsi. E siamo al fatto quotidiano. A centro pagina il titolo più importante riguarda Equitalia. Caos sulle cartelle sattoriali. Per colpa di un testo non ancora scritto. Il decreto condono non esiste. Ma fa già danni. Non si paga più il titolo che ritroviamo sul fatto. E poi in alto si parla di politica. Zaia, il governatore della Lega, no contro lo scippo ai cittadini. E Zingaretti, invece, il governatore del Lazio, fa scena muta su mafia capitale. Siamo al quotidiano libero. Dopo i contanti assalto e i gioielli di famiglia, lo Stato ci ruba anche la catenina della nonna. Governo scatenato per racimolare soldi. Entra perfino nelle cassette di sicurezza e nei materassi dei contribuenti. Convinto che siano tutti dei fraudatori del fisco. E vedete l'ossessione del PD, così la definisce libero. Boccia, sottosegretario del governo, vede evasori anche sotto il letto. Siamo al quotidiano. Il manifesto, donne di tutto il mondo. Le donne dell'Argentina si fermano per ricordare Lucia, una ragazza di 16 anni. L'ultima vittima, violentata ed uccisa. Dopo la Polonia, lo sciopero al femminile si estende e abbraccia altri paesi. Questo è il titolo principale del manifesto. Siamo al mattino di Napoli. USA, contenti di noi? Altri soldati? No, parla il ministro della difesa, Roberta Pinotti. Anche alla luce della visita della delegazione italiana negli Stati Uniti. E il ministro parla anche di un riavvicinamento a Putin e dunque alla Russia. E poi in alto vedete un richiamo al calcio sul mattino di Napoli. Ovviamente si parla della formazione partenopea che in Champions League è stata sconfitta. Un po' a sorpresa ieri sera al San Paolo per 3 a 2 dai turchi del Besixtas. Siamo alla gazzetta del mezzogiorno. La Xiella sbarca ad Ostuni. Una pianta colpita dal batterio nelle vicinanze di Rosa Marina. Legge sul caporalato. Preoccupazioni tra le aziende in regola. Dunque problemi anche con questo batterio per quanto riguarda la produzione di olio. In questo caso siamo in Puglia e poi Renzi ribatte l'Europa. La mia manovra è ok, dice il Premier di ritorno dagli Stati Uniti. E siamo al secolo XIX. Il quotidiano di Genova. Renzi sfida l'Unione Europea su bilancio ai migranti. Il Premier attacca. La manovra è seria. Noi siamo in credito. E poi anche sul secolo XIX si parla dell'arrivo su Marte. La sonda si perde ad un soffio da Marte. Dunque, come abbiamo visto anche dalle pagine del tempo, suspense per l'arrivo della sonda italiana sul pianeta Marte. In alto vedete Mazzari e Gasperini. Il derby si vince così. Si parla ovviamente del derby sul secolo XIX. Tutto genovese tra Genova e Sampdoria. Derby che si giocherà dopo domani. E siamo al quotidiano l'Unità. Crescite i migranti. L'Italia incalza l'Unione Europea. Oggi il vertice europeo. Renzi dagli Stati Uniti dice procedura di infrazione per chi non accoglie i profughi. Il premier sulla manovra rispetta, dice, tutte le regole. E poi vedete a centropagina il reportage La Festa per le bombe. Anti-ISIS. Siamo al quotidiano La Verità. Falsi dati del governo, scrive il quotidiano di Maurizio Belpietro. I profughi sono già costati 12 miliardi. Il Ministero dell'Interno e quello dell'Economia forniscono numeri contraddittori. E al ribasso uno studio calcola le cifre vere. fanno impressione il contributo europeo. Solo 110 milioni all'anno, scrive il quotidiano La Verità. L'ultimo giornale nazionale che abbiamo preso questa mattina in esame. Possiamo tornare dunque al centro per tornare a vedere e approfondire la notizia più importante che ritroviamo oggi sui quotidiani. Questa tragedia è accaduta ieri sera a Cepagatti con la morte di questo bambino di un anno e mezzo sbranato dal cane. Vediamo le pagine interne dal quotidiano Il Centro. La tragedia, vedete, sbranato dal cane a 19 mesi. Cepagatti, il piccolo è sfuggito al controllo dei familiari impegnati nel trasloco. Vedete, l'animale rinchiuso nel canile di Pescara è stato preso in consegna dalla Asle. Poi bimbi e cani consigli per tutelare entrambi. Vedete, nell'altra pagina, il padre disperato urla tutto il suo dolore davanti all'ospedale. Chieti, l'uomo si inginocchia colto dalla disperazione. Il piccolo è arrivato ormai senza vita al pronto soccorso. Poi, vedete, in alto parla il nonno. Ecco il punto dove mio nipote è stato azzannato. Questo cane che era, come abbiamo letto, legato ad un albero. È bastato un attimo perché si consumasse questa tragedia in contrada a Cantodice e Pagatti, in provincia di Pescara. Andiamo avanti, dopo le pagine di cronaca nazionale. Arriviamo alla prima pagina che riguarda la nostra regione, la cronaca d'Abruzzo. C'è un'intervista alla Lady di Ferro, così definita dal quotidiano del centro, Lady di Ferro sotto attacco. Quante falsità su di me. La direttrice generale della regione Abruzzo, Cristina Gerardis, si difende e replica. Rubo lo stipendio, D'Alfonso vuole sostituirmi. Ho un forte senso di responsabilità e sono tranquilla. Dopo questa intervista, tutta pagina, alla direttrice Cristina Gerardis, che respinge al mid-end le critiche arrivate nelle ultime ore. E poi, cambiando argomento, vedete di spalla la proposta di Selle, questo articolo, una legge contro la prostituzione, multe ai clienti, come accade in Svezia. Andiamo ancora avanti. Seconda pagina, che riguarda la cronaca della nostra regione, sempre per quanto riguarda l'Abruzzo. In alto, la nuova sede Fater, uffici e spazi relax. Siamo a Pescara. E poi, questa importante notizia che riguarda la pesca, i pescatori infatti cambiano rotta via libera alla Fossa di Pomo. Il Ministero fa cadere da subito il divieto. Nella zona più ricca dell'Adriatico, necessaria un'autorizzazione per due giorni a settimana. Si tratta per l'estate. Dunque, una buona notizia per i pescatori abruzzesi, che potranno almeno due volte alla settimana pescare nella Fossa di Pomo. E poi, chiuso di domenica, il Museo del Guerriero. Il caso dal Ministro, presentata un'interrogazione dal parlamentare del Movimento 5 Stelle, Gianluca Vacca. E poi, aeroporto, polemica sull'assunzione ex all'Italia, accordo sui rimborsi ai passeggeri. Saga deve pagare 8 mila euro per i biglietti venduti dei voli. Valle, poi una notizia che riguarda la Polizia Ferroviaria, perché De Cicco è il nuovo comandante del Dipartimento della Polizia Ferroviaria di Marche Umbria e Abruzzo, Francesco De Cicco, 56 anni, originario della Campania per tanti anni, in forza alla questura di Pescara. Andiamo ancora avanti, arriviamo proprio alle pagine che riguardano il capoluogo adriatico. Si parte dal problema scuole nel capoluogo adriatico. Lite tra i presidi. Classico contro Da Vinci. Vi ospitiamo. Siete scorretti. Questa è la risposta. Duro confronto prima del vertice in provincia. Poi la pace tra D'Amico e Bocchia. D'Amico preside del liceo classico d'Annunzio. E Bocchia, il preside del Da Vinci. Ma gli studenti per il momento non si sposteranno dall'istituto di Via Venezia, ovvero dal liceo classico, dove sono ospitati. Pochi giorni fa c'era stata la manifestazione, tra l'altro, degli studenti del Da Vinci, che dalla sede centrale di Via Colle Marino a Pescara si erano portati davanti la provincia per protestare, per chiedere dunque una nuova sede. Cambiamo argomento. Banca rotta da 6 milioni. Toto si difende. L'inchiesta sul fallimento della Libra. L'ex parlamentare è coinvolto per 10 mila euro, ma è anche creditore e dice chiarirò tutto. E poi, ieri a Pescara è stata sgomberata una palazzina in Via Chieti. Famiglia romena, con tre bimbi, trasforma l'edificio pericolante in una casa. È stata sgomberata questa palazzina. Vedete nella foto anche l'intervento dei vigili del fuoco. E siamo all'inchiesta sulla ricostruzione. Due politici chiesero il 5% sugli appalti. L'imprenditore Roscini interrogato per tre ore. Non ho pagato e li ho denunciati. Melchiorre resta in silenzio, ma si dimette. Poi vedete in basso la telefonata. Ci sono i topi, devi acchiapparli. Ecco l'intercettazione integrale in cui Melchiorre ordinò ad un tecnico di cercare le microspie nell'ufficio. Ma noi facciamo il punto su quello che è accaduto ieri in tribunale a Pescara nel servizio di Alfredo Primante. Sono sfilati ad uno ad uno davanti al GIP del Tribunale di Pescara a Gianluca Sarandrea e sei persone arrestate delle dodici complessivamente indagate nell'ambito dell'inchiesta Earthquake che ha portato alla luce un presunto sistema di spartizione degli appalti pubblici legati alla ricostruzione post-terremoto del 2009 nei comuni di Bugnara in provincia di L'Aquila e Bussi sul Tirino in provincia di Pescara. Uno degli interrogatori più attesi era quello di Angelo Melchiorre, 61 anni, responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Bussi ma soprattutto a capo dell'ufficio per la ricostruzione numero 5. Melchiorre però ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere come ha precisato il suo avvocato Lino Sciambra perché al momento la difesa ha solamente potuto prendere visione dei capi di imputazione. Sciambra ha detto che il suo assistito è pronto a parlare con i magistrati, carte dell'inchiesta alla mano ma nel frattempo ha rassegnato le dimissioni dagli incarichi in modo da agevolare una eventuale revoca degli arresti domiciliari disposti dal GIP. Noi difensori abbiamo richiesto la revoca della misura cautelare ritenendo sulla base della semplice analisi dei capi di imputazione ritenendole non sussistenti perché comunque sono riferite a fatti del 2011, del 2012 e del 2013 fatti che si sono verificati tre anni or sono e per i quali la misura cautelare è stata richiesta e applicata oggi. I reati contestati sono tali in funzione del fatto che il Merpiorre comunque rivestiva le cariche di responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Bussi e di responsabile dell'UTL. Della facoltà di non rispondere si avvalso un altro degli uomini chiave secondo le indagini della forestale coordinate dai PM Mantini e Di Serio, l'ex colonnello dell'esercito Giampiero Piccotti, 80 anni, la mente umbra che avrebbe architettato tutto il sistema denominato Piano Abruzzo al fine di gestire e dividere tra tecnici ed imprese i circa 29 milioni di euro degli appalti tra cui anche quello della scuola di Bugnara. Stesso copione anche per Emilio Di Carlo, direttore dei lavori e progettista degli aggregati 43-45 del Comune di Bussi che però si è dichiarato innocente rispetto alle accuse che a vario titolo sono di associazione per delinquere, corruzione, concussione, turbativa d'aste e falso in atto pubblico. C'è chi però ha scelto di difendersi, Marino Scancella, 65 anni, architetto formalmente incaricato della progettazione dell'aggregato numero 30 del Comune di Bussi e Angelo Riccardini, 55 anni, tecnico ed ex consigliere comunale di Gubbio. Entrambi hanno risposto alle domande del GIP. Così, al termine dell'interrogatorio, l'avvocato di Riccardini, Mario Monacelli. Lei sa che non posso riferire sul contenuto delle domande e le risposte date. Le dico che si è dichiarato estraneo a questa vicenda in maniera totale, spiegando le sue motivazioni. E' estraneo la vicenda nel senso che lui ha svolto un ruolo tecnico, questo lo ha chiarito. E' estraneo il sistema, lui non sa nemmeno di quale sistema si parla, per quello che ha svolto. Ultimo ad essere ascoltato dai magistrati, Stefano Roscini, altra figura centrale, secondo le carte dell'inchiesta. L'imprenditore Edile Perugino, a capo del consorzio GESCOM, subito dopo l'arresto, aveva annunciato di voler chiarire la sua posizione davanti ai magistrati e di voler spiegare loro anche il pizzino contenuto nelle carte di Earthquake che per i pubblici ministeri sarebbe la rappresentazione grafica dell'organizzazione del piano Abruzzo. Andiamo ancora avanti dalle pagine del quotidiano Il Centro, sempre per quanto concerne la cronaca di Pescara, sventato un tentativo di estorsione, pagami per testimoniare arrestato un imprenditore pretende 50 mila euro dall'ex collaboratore di una ditta per ritrattare le accuse, la vittima lo denuncia. Poi vedete a centro pagina, vi prego riportatemi in carcere, mia moglie, la mia ex moglie insopportabile, l'appello alla polizia di un uomo che si trova ai domiciliari. E poi oggi convegno a cura della Polizia di Stato sui bimbi abusati. Andiamo ancora avanti, siamo a Piazza Muzzi, la proposta al Comune, parliamo ancora di, in un certo senso, di ordine pubblico nella zona della Movida, del centro di Pescara, locali, chiusura anticipata, nuove regole per la Movida, gli esercenti, serrande abbassate a lune, nei weekend alle due, ci saranno controlli continui. E poi ancora Pescara, mille al voto per il quadriennio 2017-2020, parliamo dell'elezione dei nuovi rappresentanti dell'ordine dei commercialisti, e Grossi, candidato alla presidenza, dice daremo spazio ai giovani commercialisti. Ancora cronaca da Pescara e dalla provincia, cronaca giudiziaria in questo caso, violentò la figlia, condannato a dieci anni, la vittima aveva otto anni, quando il padre Orco cominciò ad abusare di lei, dopo la denuncia della ragazza, l'uomo fu arrestato. E poi a centropagina, Maremonti, reati in prescrizione, ma quattro milioni restano sequestrati, oggi riparte il processo con undici imputati eccellenti. E poi Moscufo, in basso, blackout sulla strada del cimitero, l'opposizione protesta. Andiamo avanti, siamo alla pagina di Pescara dell'area metropolitana, a Francavilla, in questo caso le medicine che scarseggiano, bimba diabetica, farmaci prescritti e dimenticati, un difetto di comunicazione tra ASL, farmacia ospedaliera e distretto sanitario alla base della carenza di fascette che mettono in difficoltà centinaia di pazienti. Poi a Cepagatti, assalto al bar con la mola, due ladri in fuga e a Spoltore, comune insediato, il nuovo segretario generale. Siamo a Montesilvano, la qualità dell'aria, il comune studia un piano, per ridurre smog e rumore, la Commissione Sanità al lavoro per trovare misure contro l'inquinamento. E poi sono senza casa e ho paura di perdere anche mio figlio. Questo è l'appello disperato di una donna romena sfrattata dal comune, insieme ad altre cinque famiglie, dalle case parcheggio di Cappelle. Posso pagare, dice la donna, un affitto minimo. E poi vedete in basso, interrogazione del consigliere PD D'Ignazio che dice che fine ha fatto la nuova chiesa nel cimitero. E poi cane nel pozzo, salvato dai vigili del fuoco, è accaduto a Città Sant'Angelo. Siamo alla pagina di Penne Popoli e dell'Alta Val Pescara. Farindola parla l'ex sindaco assolto, quell'inchiesta fatto male a tutti. De Vico, non rinuncio alla politica, ma mai più amministrerò. E poi Bussi, centrovisite del Tirino. La gestione resta al bosso, proroga in attesa del nuovo bando. In basso siamo a Popoli, pronta la palestra della scuola Paolini. E poi sempre a Popoli, i teologi a congresso sulla fauna nel fiume Pescara. Dunque questo importante appuntamento che si terrà nella cittadina. Noi ci fermiamo per qualche attimo con la lettura delle notizie dei nostri quotidiani. Perché ricordiamo che oggi la Chiesa Cattolica festeggia Santa Maria Bertilla Boscardin. Anna Francesca Boscardin che nacque a Brendola nel Vicentino il 6 ottobre del 1888. Angelo, il padre a differenza della sua virtuosissima sposa e della pia ingenua figli ora, era tutt'altro che un angelo di bontà. Quando i fumi del vino cui era dedito gli salivano al cervello e una tetra in fondata gelosia per la sua sposa lo invadeva, allora l'uomo diventava una bestia. La sua cattiveria aveva delle insane esplosioni di collera che mettevano paura. Anna tentava sempre, ma spesso inutilmente, di difendere la mamma e rabbonire il babbo, il suo carattere mite e dolce, la sua devozione nelle preghiere erano anche per il babbo e sarà lui stesso a confessarlo un forte richiamo al dovere. Annetta non fu una cima di intelligenza, ma in compenso, aveva sortito un cuore mite sensibilissimo, una volontà tenace e intraprendente. Quando sarò grande anch'io mi farò suora, aveva detto una volta la mamma, vedendo al suo paese alcune suore che giravano alla questua questa ispirazione, si trasformò presto in proposito. L'8 aprile del 1905, Annetta, accompagnata dai genitori, entra infatti nella casa madre delle suore Dorotee di Vicenza. La buona figliola aveva preso sul serio le consegne della mamma. La sua vita sarà la pratica costante di tutte le virtù fino all'eroismo. L'8 dicembre del 1907, festa dell'Immacolata, Suor Bertilla si consacrò definitivamente a Dio, emettendo i santi voti nella casa madre di Vicenza. Fu in seguito mandata a Treviso per sostituire una consorella infermiera, Suor Bertilla, che aveva sempre lavorato in cucina come sguattera. Si rivelò quasi di improvviso un'infermiera abilissima, apprezzata e ricercata dai medici nei casi più difficili. E molto ben voluta dai malati, il suo amore per la madre di Dio ebbe tutta la tenerezza, la fiducia, l'incantevole semplicità di una figlia per sua madre. La sua attività instancabile, le veglie continue, la sopportazione silenziosa del suo male, che da tempo nascondeva con eroica pazienza, consumarono in breve la sua robusta salute. Il 16 ottobre del 1922, per volere della superiore, un professore venne chiamato a visitare Suor Bertilla. La diagnosi rivelò la necessità di un intervento chirurgico per estirpare un fibroma. L'indomani ebbe luogo l'operazione, ma ormai era troppo tardi. Tre giorni di acuti dolori passati in santa rassegnazione e assoluta sottomissione al divino volere bastarono per preparare l'incontro di Suor Berlina col suo sposo Celeste. Oggi il ricordo di questa donna dichiarata santa dalla Chiesa Cattolica, Santa Maria Bertilla Boscardine. Noi ora ci fermiamo per qualche istante e poi, come sempre, torneremo in studio per la seconda parte di Mattino 6. Dopo aver visto le previsioni del tempo e la fascia pubblicitaria, torniamo in studio per la seconda parte di Mattino 6 con una notizia che è giunta in redazione da pochissimi istanti, perché 40 uomini del Corpo Forestale dello Stato dei comandi provinciali di Chieti e Pescara coordinati dalla Procura della Repubblica, direzione distrettuale antimafia dell'Aquila, stanno eseguendo, come leggiamo da una notizia dell'ANSA, stanno eseguendo una vasta operazione per compiere arresti ed il sequestro di un impianto di depurazione di ingenti somme di denaro. I reati per i quali si procede sono traffico illecito di rifiuti, inquinamento ambientale, truffa ai danni dello Stato e abuso d'ufficio. I particolari saranno forniti nella conferenza stampa che si svolgerà questa mattina alle untici, in Tribunale all'Aquila, alla presenza, fra gli altri, del sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia Antonio Laudati, del procuratore capo dell'Aquila Stefano Gallo, dei sostituti procuratori Antonietta Picardi e David Mancini, del comandante regione del Corpo Forestale dello Stato Abruzzo Ciroluongo e dei comandanti provinciali del Corpo Forestale di Chieti e Pescara, Livia Mattei e Giancarlo D'Amato. Dunque, questa è la notizia dell'Ansa di pochi minuti fa, quest'operazione in corso, proprio in questi minuti, della Guardia Forestale, del Corpo Forestale dello Stato nella nostra religione per traffico illecito con arresti e sequestri. Ovviamente vi daremo notizie più ampie con un dettagliato servizio della nostra redazione aquilana nel corso del telegiornale dell'edizione delle 14. Torniamo alla lettura dei nostri quotidiani, torniamo al centro, alla pagina di Chieti, sentenza dopo sette anni, venti assolti per gli acquisti con truffa, il tribunale condanna sette anni un solo imputato, cade l'associazione a delinquere, ma nel 2009 scattarono gli arresti e poi testa PM Teatini contro la nomina, nuovo procuratore, lettera al CSM, firmata da quattro magistrati e poi in basso siamo a Cupello, dunque nella zona del Vastese, lo narcotizzano e gli rubano soldi auto. Cupello, la gang nell'appartamento di un emigrante tornato in vacanza, ladri anche in altre due case. Siamo alla pagina dell'Aquila, sempre dal quotidiano del centro, anziani raggirati, il blitz della finanza a Fontecchio, parla il GIP, altri nonni ospiti, in pericolo per l'accusa, il meccanismo dei conti prosciugati può essere ripetuto, così è scattato l'arresto dei gestori della casa di riposo. Poi Roccarà, Sorso, investito e ucciso, e caccia al Pirata. E poi, muore studentessa, Cordoglio, in città, Elena Pasquali, 16 anni, ancora da compiere, era considerata una pianista di grande talento. In basso, sempre l'Aquila, perseguita a un disabile a processo, rinviato a giudizio per stalking nei guai un 51enne per molestie durate anni. Poi a Celano, spacciava droga nel fienile, arrestato un giovane. Siamo a Teramo, la sanità che cambia il bilancio del 2016, la Aslin perdita per 10 milioni di euro. Il collegio di direzione discute del difficile quadro economico causato da riduzioni nei trasferimenti da Stato e Regione. E poi, per i posti dei disabili occupati, dopo il blitz di striscia la notizia, l'azienda farà causa ai dipendenti. E poi, in basso, il deputato Sottanelli, si laurea a 46 anni, ha ricevuto la pergamena nella cerimonia riservata agli studenti di scienze della comunicazione dell'Università di Teramo. Siamo arrivati alla pagina della cultura e degli spettacoli e poi dello sport. Dunque, possiamo andare a vedere insieme le pagine dell'inserto Abruzzo del quotidiano Il Messaggero. Poi, vedremo insieme anche, ovviamente, daremo uno sguardo alle notizie pubblicate sul quotidiano La Città. E come sempre, nell'ultima parte, ovviamente, daremo uno sguardo allo sport per parlare soprattutto di calcio, delle nostre formazioni che si preparano agli impegni calcistici nel weekend. Ricordiamo in particolare che il Pescara giocherà domenica alle 12.30 a Udine contro la formazione di Gigi Del Nieri mentre il Teramo giocherà invece sabato al Bonolis con l'Albino Leffe. Allora, siamo alle pagine del Messaggero. Vi dicevo, pagina di cronaca regionale, referendum, Mazzocca, Gero Solimo e Di Matteo che spine per D'Alfonso, il governatore e quattro assessori per il sì, due in silenzio, il caso del sottosegretario in maggioranza, ma voterà no. E poi, chiede appello del ministro alle politiche agricole Martina, riforma vicina, dateci una mano, i Bing in campo in questo caso e a Chieti è arrivato proprio il ministro delle politiche agricole. E poi parliamo di profughi, centri d'accogliamento, in bolletta, pagamenti fermi anche da sei mesi, le strutture che ospitano quasi 4 mila richiedenti a silo sono in credito di 17 milioni e poi l'erogazione delle risorse spetta al MEF, alcune coppe rischiano il fallimento. Ma sulla questione migranti nella nostra regione, ieri c'è stata una conferenza stampa dell'esponente del consigliere regionale di Forza Italia Lorenzo Sospiri che ha fatto delle proposte al regione su proprio la presenza nella nostra regione soprattutto in provincia di Pescara di diversi profughi andiamo ad ascoltare l'intervista. Consigliere Sospiri oggi avete presentato delle proposte per quanto riguarda la presenza di immigrati in Abruzzo tra l'altro avete anche parlato della presenza di queste persone nei piccoli centri della provincia di Pescara e non solo con gli amministratori che vengono informati praticamente al momento di tutto questo. se sono immigrati intanto sono immigrati clandestini e si devono tornare a casa loro se sono presunti profughi allora parliamo di quello che sta avvenendo noi abbiamo presentato quattro proposti di legge che hanno questo obiettivo sono molto sintetico e schietto interrompere il business che fanno i privati sul fenomeno immigrazione richiamare la regione Abruzzo al mantenimento dei suoi compili istituzionali che vuol dire coordinare e rendere trasparente il fenomeno e non farlo scaricare sulla responsabilità di sindaci di medie piccole piccolissime città e paesi della nostra provincia ma della nostra regione che quali mezzi dovrebbero avere per contenere questo fenomeno la regione Abruzzo fa finta di niente se ne frega non so perché se perché poi chi partecipa a questi bandi sono cooperative da un colore molto chiaro molto chiaro ovvero rosse o sono le stesse istituzioni regionali benefiche come l'IPAB a cui la regione non trasferisce soldi e quindi fanno quadrare il bilancio sui presunti profughi ma questo è un fenomeno che non si legge più non si legge più per la situazione di Montesilvano dell'Eccelsior dove ce ne sono troppi in un albergo che non è in grado di ospitarli e che non li dovrebbe ospitare perché non è nelle condizioni di ospitare in un quartiere preferenziale residenziale ma non si legge nei paesi della provincia di Pescara dove magari arrivano 25 presunti profughi a Vestea o a Pianella o a Moscufo o a Turri Varignani dal giorno e dalla notte perché c'è un imprenditore non so neanche se definirlo così molto cinico che fa affari su stipare più gente possibile Questo dunque il pensiero dell'esponente di Forza Italia Lorenzo Sospiri noi siamo alle pagine di Pescara del Messaggero ritroviamo la notizia d'apertura di questa edizione del 20 ottobre di mattino 6 ucciso a morsi dal cane del papà famiglia impegnata nel trasloco Ferdinando Di Rocco si è avvicinato all'animale legato con una catena ad un albero è morto così questo bimbo di un anno e mezzo Manuel urla al mondo il suo dolore figlio mio sono morto insieme a te ovviamente scene strazianti davanti ieri sera all'ospedale di Chieti dove è arrivato purtroppo praticamente senza vita questo bimbo di appena un anno e mezzo ucciso a morsi dal cane di famiglia e poi vedete di taglio laterale emergenza scuola 70 mila euro per riportare il liceo da Vinci a piazza grue e in basso commercialisti al voto la sfida è fra grossi e rapino il 3-4 novembre il rinnovo delle cariche del consiglio per quanto riguarda l'ordine dei commercialisti di Pescara siamo ancora alla cronaca che arriva dal capoluogo Adriatico Roscini anche i politici nel sistema sisma e tangenti l'imprenditore Umbro tira in ballo sindaco e vice sindaco di Bugnara il foglio delle mazzette al 5% di Carlo e Melchiorre muti davanti al GIP Sarandrea scancella e poi Riccardini svelano il ruolo chiave di Piccotti ieri gli interrogatori in tribunale a Pescara degli indagati abbiamo visto prima il servizio che ha riassunto proprio gli interrogatori di ieri del nostro collega Alfredo Primante poi Truffa falso avvocato finisce in manette poi a centro pagina non sopporto mia moglie meglio il carcere questa storia di quest'uomo che chiede di tornare in carcere poi ancora cronaca soldi per ritirare l'accusa arrestato imprenditore nell'area Vestina in provincia di Pescara e poi più sicurezza Piazza Musi mozione di testa e forza Italia dunque parliamo della movida pescarese siamo ancora alla cronaca di Pescara e dell'area metropolitana Pescara Porto stop all'ultimo giorno il dirigente comunale Silveri dopo un incontro con il sindaco ha fermato la società appena prima della scadenza dei termini sarà il consiglio comunale di Pescara doversi pronunciare sul cambio di destinazione d'uso da uffici ad abitazioni sul mare e poi oggi all'aurum Adop Sebrenica un sopravvissuto racconta l'errore del genocidio e poi vigili e polizia liberano in Via Chieti la casa Tugurio occupata da disperati e poi la chitarra di Valerio Scrignoli apre la segna al museo delle genti e presentato il cartellone proprio ieri in comune del museo che si trova nel centro storico di Pescara e poi progetto in ospedale a Dio Brodino arriva il menu dello chef Romito proseguiamo pagina dell'Aquila sempre dal messaggero strisce blu a ridosso del centro storico parcheggio a pagamento lungo via Strinella viale Duca degli Abruzzi alla villa comunale e nella zona tra via Castello e Fontana luminosa e poi finanziamenti percepiti legalmente sequestrati 800 mila euro a tre imprese tre persone indagate poi il progetto si studierà la lingua inglese anche alla materna casetta fantasia e poi in basso la cronaca giudiziaria nonnini raggirati controlli su 300 pazienti poi la sentenza moglie disabile umiliata condannato proseguiamo Lolli benedice Roccaraso ma anche il Gran Sasso si deve sviluppare il vice presidente della regione chiude la polemica il prodotto Abruzzo è vario il parco non deve rappresentare un ostacolo i SIC si possono rivedere e poi festival e montagna rapporto saldo il bilancio si è chiusa positivamente la carmesse tantissimi giovani gastronomia e poca politica e poi inaugurato il parco delle acque a breve i lavori della seconda parte sempre all'Aquila e poi riqualificazione del fiume siglato il protocollo d'intesa siamo alla pagina di Avezzano Sulmona chiusa per sempre la discarica di Santa Lucia Aciam e Comune hanno annunciato il completamento dei lavori che erano stati richiesti da anni dai cittadini siamo ad Avezzano e poi ad Anversa degli Abruzzi ricorderete la donna morta nell'esplosione di una bombola di gas ad Avola in provincia di Siracusa oggi ci sarà l'ultimo saluto a questa donna proprio scomparsa nei giorni scorsi e poi il caso ambiente a Massadalbea spunta l'oasi degli aeroni andiamo ancora avanti sul Mona Santa Rufina struttura residenziale per disabili e poi Fucino a Celano droga arrestato un altro magrebino e poi a Roccaraso la vicenda dell'orso morto proprio per un investimento e caccia all'automobilista infine ancora Avezzano ferrovia stop a novembre per lavori siamo alla pagina di Chieti l'università condannata dovrà pagare 8 milioni e mezzo di euro polo didattico mai realizzato al campus il tribunale risarcisce i big del mattone e poi il rilancio delle aziende sarà spiegato dai manager la sfida dei nuovi mercati e la gestione delle crisi le conclusioni affidate al vice presidente della regione Giovanni Lolli e poi Sabrina Ferilli in città per girare una fiction l'attrice da due giorni all'hotel Parcopaglia ha mantenuto la privacy e poi parliamo dell'università del vecchio a Napoleone restituisci subito 75 mila euro i soldi riguardano un incarico conferito all'ex direttore generale pagamento entro 15 giorni o si andrà o si andrà per si procederà per le vie legali e siamo alla pagina di Lanciano Vastortone assolto musicista non diffamò di Campli palmaresse di processi per l'ex società sportiva Lanciano targata Roma il jingle musicale di Mario Berghella è stato ritenuto corretto l'attuale procuratore di Marco Verratti si ritenne leso dal coro la corte d'appello scagiona l'ultimo imputato e poi Ortona palazzinata in azione per i bagni inagibili e sempre ad Ortona frazioni nord dimenticate c'è stato un incontro con il sindaco a Vasto Steven viaggio in Africa sul sentiero dei migranti e poi ancora Lanciano in carico all'architetto scagionata la giunta prosciolti di santo gli assessori per la nomina della De Francesco a Bomba infine ancora Vasto perseguita negoziante di vieto di avvicinamento proseguiamo ancora siamo alla pagina di Teramo del messaggero comune il nodo dei 16 milioni di swap dopo dieci anni c'è il tentativo di uscire dal debito ma Unicredit e BNL per ora oppongono un netto rifiuto e poi volontariato il centro servizi organizza le giornate per il sociale e poi gli stati generali della cultura al via con una serie di esclusioni eccellenti in basso provincia restano solo tre immobili tutti gli altri sono dismessi compresa la caserma dei carabinieri tutto questo per fare cassa e dopo le immagini di striscia ridipinti i parcheggi riservati ai disabili siamo alla pagina di Giulianova Roseto Val Vibrata hobby nata l'azienda più grande d'Europa è sorta a colleranesco da un'idea dell'imprenditore De Luca e nel sito sono addirittura elencati oltre duemila soci poi ancora Giulianova cronaca nascondeva la droga tra le crocchette dei cani e poi due giovani fermati sempre a Giulianova per spaccio di Ascic in Val Vibrata poche donne in giunta ricorso al prefetto il caso di Nereto ha tortoreto la sindaca Ricchi si è fatta fuori da sola pioggia di polemiche alba adriatica vigilanza armata dei parchi pubblici infine Roseto il consiglio comunale esamina il caso dei conti siamo arrivati alle pagine dello sport dobbiamo andare a vedere invece insieme le pagine del quotidiano la città di Teramo lo faremo tra qualche istante per andare a vedere appunto proprio i titoli principali che ritroveremo e ritroverete sul giornale oggi in edicolo ovviamente spazio alle notizie che riguardano la provincia di Teramo in questo caso vediamo innanzitutto qual è il titolo principale il titolo di apertura del quotidiano la città ovviamente come gli altri giornali oggi in edicola si parla di questa tragedia ne abbiamo parlato tanto questa mattina accaduta nel tardo pomeriggio di ieri a Cepagatti in provincia di Pescara muore muore azzannato dal cane di papà bimbo di un anno e mezzo muore a causa delle ferite riportate dal morso di un pastore tedesco e poi vedete a centropagina acquario ipogeo prima giornata per gli stati generali della cultura andiamo a vedere le pagine interne partiamo dalla cronaca regionale sequestro Soffiantini perizia riapre il caso ad uccidere l'agente dei Nox sarebbe stato un colpo di Kalashnikov dei rapitori e non dei colleghi poliziotti e poi la tragedia bimbo di due anni azzannato e ucciso dal cane del papà e poi cronaca si impossessano dei soldi degli anziani i manette i gestori di una casa di riposo aquilana proseguiamo siamo alla pagina di Teramo ultimo abbraccio oggi al cavaliere di San Nicolò questa mattina alle 10 a San Nicolò i funerali di Gian Domenico di Sante scomparso martedì all'età di 80 anni e poi cultura in basso lolli polo tra quattro biblioteche non una biblioteca unica il vicepresidente spiega la riorganizzazione delle istituzioni culturali passate al regione poi stati generali inaugurato l'acquario della cultura all'ipogeo di Teramo e poi corso i commercianti chiederanno i danni passata la protesta del gazebo restano i guai causati dal cantiere le attività si rivolgono ad un legale e poi caos sosta nel quartiere San Giorgio la consigliera De Santis critica il mancato rispetto della sosta riservata ai residenti e poi il progetto del CSI di Teramo sono sportivo tifo positivo ci saranno i ragazzi del CSI mercoledì prossimo allo stadio Adriatico per seguire la gara del campionato di Serie A tra Pescara ed Atalanta e poi scuola pep ingresso in condizioni pietose d'Alberto del PD raccoglie la protesta dei genitori per pozzanghere e crateri e poi tasse a fine ottobre scade la quarta rata dell'Atari gli avvisi di pagamento direttamente nelle cassette della posta dei cittadini domani la giornata sociale con il CSV povertà e disabilità parte la campagna di sensibilizzazione attraverso i volontari del centro servizi per il volontariato e poi Ateneo parliamo dell'università agenti di commercio prime lauree dell'università di Teramo ancora avanti provincia ospedale unico spunta anche l'ex autoporto per Asle Regione va garantita l'equidistanza fra Teramo Atri e Giulianova e la politica si ingegna in basso striscia la notizia scattano i provvedimenti per i dipendenti dell'Asa dopo il blitz dei collaboratori della nota trasmissione e poi provincia se la Valfino guarda troppo verso Pescara troppi cittadini costretti a frequentare la città adriatica per via delle strade impercorribili verso Teramo ancora avanti pagina della Val Vibrata mazzette per la ricostruzione post sisma appuntamento nell'albergo di Tortoreto e poi Corropoli Galantini e Falcucci premiati al Danuntis domenica alla Badia Celestiniana la cerimonia per la consegna dei riconoscimenti e siamo alla pagina di Giulianova Mosciano Giulianova strisce blu e tassa di soggiorno doppio balzello per i turisti poi nasconde la droga nei croccantini del cane polizie e carabinieri arrestano tre giuliesi per detenzione ai fini di spaccio e poi sabato per quanto concerne l'università della terza età ci sarà l'apertura del nuovo anno accademico caso incompatibilità la Ciancaione resta in consiglio comunale il TAR concede la sospensiva rispetto al parere dell'ANAC ieri avrebbe dovuto scegliere fra Roseto e la Regione e poi il Parco del Cerrano fa il bilancio dei primi sei anni di attività infine in basso Pineto commercianti a lezione per imparare ad usare i social network ancora pagina di Roseto Pineto Atri e Silvi bilancio nel mirino delle opposizioni siamo a Roseto consiglio caldo oggi incentrato sulla situazione finanziaria del comune ancora Roseto tra due settimane la sentenza del processo ex Monti siamo arrivati alla pagina dello sport Nofri il coraggio ci permetterà di vincere parla il tecnico Terramano alla vigilia della gara con l'Albinoleff noi andiamo ad ascoltare proprio le parole del trainer Biancorosso Federico Nofri si è rassegnato al fatto che l'obiettivo sia solo la salvezza quest'anno oppure no? No noi non possiamo ragionare in funzione di quello che è l'obiettivo minimo dobbiamo essere realisti valutare la classifica prenderne atto e comunque sia pensare al presente noi in questo momento vedo intorno alla scuola del Terramo scusate permettetemi che lo dico grande scetticismo e grande disfattismo io non la vedo così non la vedo così perché poi io ho le redini e sicuramente forse sicuramente sono un po' anche presuntoso e voglio essere positivo ci sono ancora tante partite dobbiamo dimostrare alcuni valori io spero che il tempo ci possa dare ci possa smentire ci possa smentire anche il giudizio su qualche giocatore poi su qualche altro giocatore rimarrà lo stesso ma siamo in parecchi e sono convinto che dalla parte dei giocatori c'è grande motivo di rivalza lo dobbiamo dimostrare ci dobbiamo mettere grandissima partecipazione e grandissima passione Carraro e Jefferson come stanno? ma Carraro sicuramente dobbiamo aspettare Jefferson spero di recuperarlo per sabato per averlo disponibile per poterlo utilizzare quindi Carraro non ci sarà no ok ci dicevano di Fratangelo ci hai mai pensato questo ragazzo molto interessante delle giovanili del Teramo magari Alessandro è un giocatore è un giovane che sicuramente si sta allenando bene partecipa i giovani sono convinto che dobbiamo inserirli in un contesto in cui le cose vanno bene perché poi rischiamo di bruciarli e rischiamo comunque sia di creare troppe aspettative dunque lui si sta allenando se poi ci fosse la necessità di poterlo inserire io non ho nessun problema a far giocare i ragazzi giovani questo è indubbio siamo sulle pagine del centro parliamo del Pescara il derby di Galeone Pescara guarda di dietro non è l'attacco il problema parla l'ex tecnico biancazzuro doppio ex di Udinese Pescara Pescara toccherà a Fornasier sostituire lo squalificato Coda nell'Udinese all'assalto col Tridente spazio per Depol Zapata e Terò andiamo avanti l'ex al veleno Verre Udinese non è stato vero amore Verre dovrebbe tornare in campo proprio domenica mattina nel match lunch delle 12.30 Campagnaro dice non sarà una sfida decisiva e poi andiamo alle pagine che riguardano la Lega Pro e la Serie D Teramo se non segna il bomber Sansovini l'attacco inesistente dunque ci si aspetta una svegliata generale da parte degli altri attaccanti in rosa e poi pallannuoto Pescara Coid e Ying in Vasca nella gara di Milano parliamo di pallannuoto femminile e poi calcio a 5 Pescara con il morale alle stelle Acqua e Sapone cerca il riscatto Serie D chiedi Giacomini sbotta vorrei più rispetto ancora basket Serie A2 Mei Roseto facciamo punti nei due turni in casa lo dice l'esponente della società rosetana siamo in chiusura dobbiamo vedere le pagine dello sport del messaggero prima di salutarci ovviamente anche sul messaggero c'è spazio per quanto concerne le pagine relative proprio allo sport di casa nostra in particolare al Pescara come vi dicevo c'è attesa per questa gara che si giocherà domenica alle 12 e 30 allo stadio di Udine parla il presidente Daniele Sebastiani che dice ci salveremo coda avverte una sfida da non sbagliare e poi la giornata di ieri per i biancazzurri differenziato per Baybeck che è in dubbio e poi in basso si parla del Lanciano si compie la profezia dei Maio senza di me finirete a giocare a San Vito dice l'ex patron e domenica si giocherà proprio la sfida di San Vito seconda pagina di sport in alto Sales il Teramo ha bisogno solo di tranquillità parla il giocatore bianco rosso e poi l'Aquile presidente Chiodi apre ai tifosi poi Serie D Manzova stesse non cambiare mentalità poi il calcio a 5 vedete l'acqua e sapone deve dimenticare il derby sabato contro Imola l'occasione del riscatto ancora calcio di Serie D Chieti vicino all'ingaggio del difensore centrale russo e poi in basso pallamano farma più riscatto col Cologna per la Globo segnali di ripresa siamo in chiusura prima di salutarci vi ricordo la notizia di questa mattina di pochi minuti fa questa notizia dell'ANSA di questa operazione che è in corso da parte del corpo forestale dello Stato per un traffico illecito di rifiuti ci sono arresti e sequestri in Abruzzo alle 11 conferenza stampa in tribunale all'Aquila alla presenza fra gli altri del procuratore della direzione nazionale antimafia Antonio Laudati è davvero tutto grazie per averci seguito vi ricordo il prossimo appuntamento informativo come sempre alle 14 la prima edizione del TG6 grazie e buona giornata grazie a tutti grazie a tutti